Ciao, buon Nenad, buon pomeriggio. Due curiosità, la prima se mi racconti la gioia per una cosa che credo tu volessi fortemente. Mi racconti, quando hai saputo della notizia che è stato acquisito definitivamente dalla Fiorentina, che soddisfazione è per te fare questa stagione in maglia viola? Poi Nenad. Salve a tutti, sicuramente io aspetto ancora un gol in maglia viola mio, perché l'anno scorso sono stato l'unico giocatore che non è segnato, però anche se non è segnato ero molto contento come è andata la mia prima stagione qui e dopo quella stagione fortemente volevo rimanere qua. Poi alla fine sono stato fortunato e sono rimasto qua, grazie a dirigenti, grazie a mio procuratore. Notizia è arrivata quando ero con mia moglie a viaggio di nozze, quindi era un bel regalo per matrimonio. La seconda cosa che ti faccio è, io ricordo il giorno della tua presentazione, tu quando parli di lui, tra virgolette, da fratello maggiore quasi, anche perché poi sei connazionale, ne parli sempre in maniera simpatica, però fai un po' come tutti, hai delle sottolineature nei suoi confronti anche dal punto di vista caratteriale. Ti chiedo se ci hai parlato in questi giorni, secondo te è determinato a restare e come lo vedi in prospettiva in questa stagione? Grazie. Sì, ma dovevo allora venire prima perché quando sono arrivato io, lui ogni giorno migliora di più, non dico che grazie a me, però io conoscevo lui da tanto e sapevo sue qualità come uomo e soprattutto come giocatore, adesso lui dimostra tutto questo e lo vedo molto tranquillo perché è difficile in questo momento stare tranquillo quando ogni giorno parla anche di altre squadre, anche di suo contratto, però secondo me lui sta molto bene qua e sicuramente farà tutto per rimanere, però tutto dipende da lui e poi sono domande più per lui che per me. Si parla moltissimo del gioco d'attacco della Fiorentina, si parla molto meno di quello difensivo, che però è quello che cambia o meno perché sono arrivati un sacco di attaccanti e in realtà i difensori non è arrivato nessuno fondamentalmente. Due domande, la prima è perché? Cioè questa difesa tanto discussa, si parla sempre del gioco d'attacco, della difesa meno invece la difesa non cambia, cioè qualche qualità la deve avere. e l'altra è questa, il giocatore in questo momento più discorso è neto perché è il punto interrogativo, resta, non resta, è titolare, non è titolare, ce la farà mentalmente a tenere questo ruolo. Vorrei tu mi raccontassi neto qualità e difetti, secondo te se lui può essere davvero il punto di riferimento della difesa della Fiorentina? Sì, ho visto anch'io che questi giorni si parla molto di nostra difesa, però sicuramente società e anche allenatore c'è molta fiducia in noi perché anche l'anno scorso siamo tutti nuovi arrivati in difesa e abbiamo dimostrato che alla fine diciamo che abbiamo fatto molto bene anche se qualche partita non abbiamo fatto abbastanza bene. Adesso c'è più tempo per preparare bene e il mister non chiede solo da noi difensori che difendiamo perché soprattutto anche in questo momento quando sono arrivati molti attaccanti centrocampisti sicuramente anche noi dobbiamo più giocare perché attacchiamo sempre, possesso palla e quindi anche in questo momento molto di più lavora su questo aspetto. E poi neto, ma a me piace tantissimo perché si vede anche in allenamento che è un vero professionista che lavora molto e anche noi in allenamenti siamo sicuri con lui sicuramente anche noi abbiamo molta fiducia in lui e a me piacerebbe vedere lui come primo portiere di questa squadra. Ciao, allora l'anno scorso arrivaste proprio all'ultimo momento mi sembra non facessi nemmeno il tempo a salutare la squadra e andassi in campo a Napoli e giocassi per alto benissimo. Ti chiedo, tu sei arrivato comunque non tra lo scetticismo però neanche con il suono delle trombe, delle fanfare no, giocatore bravo ma normale invece hai dimostrato di essere molto bravo. Ti chiedo se davvero tu abbia davanti ancora grandi margini di crescita, di sviluppo cioè se tu pensi davvero di diventare un forte difensore magari uno dei migliori campionati italiani. Grazie. Grazie ma sicuramente io soprattutto anche in questo momento e anche in fase preparazione non sto molto bene come tutti ancora sono gambe pesante però sicuramente che posso migliorare tanto sicuramente il 30% di mie qualità possono andare in avanti e anche dopo il primo anno che ero anche un po' un po' timido perché non conoscevo diciamo che prima volta è successo che sono in una grande squadra con tanti bravi giocatori e adesso è un po' un po' diverso ho molta fiducia e e sicuramente posso tanto migliorare migliorare Luca faceva questa domanda tu sei nazionale no? voglio dire e tu canti l'inno e ti provo cioè lo fa canti volentieri e pensi che sia giusto che gli Aic sia fuori perché non canta l'inno proprio sinceramente per capire detto anche chiesto da un italiano quindi che è lontano anche col massimo rispetto e lo dico dalle vostre dinamiche che per quanto riguarda sono più che rispettabili grazie ma è una domanda molto delicata perché si parlava molto di 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 queste cose anche in mio paese rispetto a Adam su questa cosa perché lui sa perché non canta rispetto anche all'allenatore Mihajlovic perché anche lui c'è le sue cose quindi non si sono messi d'accordo mi dispiace perché Adam è molto forte e sicuramente molto utile per la nostra nazionale però è una domanda più per lui che per me io invece canto l'ultima grazie a tutti Grazie.